Posso fargli auguri agli uomini che volo di non venire mai giù. Con una squadra di amici abbiamo formato un sestetto dove sono nel sestetto base e sono l'alzatore. Venite, venite avanti, chi ci vuole sfidare mi mandi una mail, siamo assatanati. Beh giusto, bello, anzi invitiamo tutti a venire qua a vedere la finale. Io sono un ex giocatore di pallavolo. Smisi il giorno che con un bagger mi ruppero gli occhiali, con un bagger, non con una schiacciata. Io il 9 maggio spero di avere tempo per venire a vedere la finale. Poi soprattutto la classica che vinca il migliore. Speriamo che il migliore sia quello che vogliamo noi. Speriamo che il migliore sia quello che vogliamo noi. Speriamo che il migliore sia quello che mi ruppero ti con la qualità. Speriamo che il migliore sia quello che lo mandiamo noi.